Ciao a tutti Dreamers, miei bellissimi sognatori, io sono Francesca e bentornati sul canale! Bentornati in un primissimo video di Rainbow Friends, gioco che mi avete consigliato in tantissimi. Ok, sono qui, non ho la più pallida idea di quello che io debba fare, come al solito, ma sono qui con il mio avatar, che per una volta non sembra un gigante, no, è comunque un gigante il mio avatar, ok? Ok, qualsiasi impostazione io provi a cambiare, il mio avatar resterà sempre gigante! Ma se quindi siete curiosi di vedere questo video, se volete più video qui su Rainbow Friends, io mi raccomando, io nel frattempo inizio a entrare nell'autobus, ah no, resto ferma qui, devo aspettare che arrivano i giornatori, voi lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendomi anche al canale, tappando la campanella, soprattutto perché ricominciano i video tutti i giorni, e saranno tantissimi video diversi, vlog, video, andando in gita, vabbè, vlog, video su Adopt Me, domani ci sarà un nuovissimo video news di Adopt Me, tantissime, tantissime cose, allora, capitolo 1, in attesa di altri giocatori, allora, nel frattempo c'è il negozio, ovviamente, come ogni cosa, io ho 0 di 0, 0 di 0 IGN, tutto 0, 0, inventario, ho il comune predefinito, poi ci sono le impostazioni, che se clicco non succede niente, C, mi abbasso, credo, va bene, allora, inizio del gioco, allora ragazzi, mi avete parlato, ok, mondo strano, allora, quindi questo è il capitolo, no, ok, un uomo misterioso ha ruotato la freccia, e quindi, invece di andare nel mondo strano con la ruota panoramica, stiamo andando nella zona rischio biohazard, crash, ok, oddio, rosetta, che sono qui, aspettate, qualcuno mi sta trascinando, ok, se premocci, quindi mi abbasso, benvenuto, ho bisogno del tuo aiuto, vi ricordo ragazzi, che giù in descrizione troverete anche le magliette, non ho addosso la maglietta, ma sono tutte in sconto, allora, mi sono caduti i blocchi, tutto quello che devi fare è trovarli e rimettere, questa sembra proprio una skin di Piggy, comunque, in tutto ciò, ok, devo trovare i blocchi e, ehm, B, oh mamma, se provo ad andare di qua, sto andando nel posto sbagliato, oh, paura, ho paura, aiuta, sai? Che devo fare? Ragazzi, ho perso, credo Tipo Dieci anni di vita Sì, sì, ragazzi, ho perso dieci anni di vita Allora, io quella porta Eh Ragazzi, io vorrei anche trovarlo, un blocco Ah, sono le porte Che sbattono, ok Qualcuno mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto Mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto Mi ha visto, mi ha visto Ok, scherzavo Resto con te Eh, Supergirl è stato trovato Ok, qui non c'è niente Non c'è nessuno Che non devo Ah, non devo cliccare sulla porta per aprirla Va bene La porta si apre da sola Io pensavo di dover aprire io manualmente La porta, invece Non è così, va bene Ok, quindi tutte queste botte Che io sentivo e che mi terrorizzavano Ok Io resto con l'oro Ma col caspito che io vado lì Ma col caspito che ci vado Sentite Mancano due blocchi Io non ne ho trovato Corri, 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 corri Zia, corri Run for your life No, vabbè Raga Dite che è qua fuori Io dico che è qua fuori Sì, eh Segui le frecce blu Grazie Speriamo che blu non abbia Non ho finito di leggere Ma ok, ho vinto Ho vinto Questo è green Ok Ok Quindi abbiamo green Blu e green E questo green Riposati Ne avrei bisogno per domani Vabbè ragazzi Sono sopravvissuta Non si sa bene a cosa Perché io niente ho fatto Sono ancora Uno scatolo Va bene Ma abbiamo superato la prima notte Ma quindi si comprano le scatole Eh, vabbè Si comprano le scatole carine Vabbè Ho 50 soldi Che me ne faccio Della scatola Sembra che green Sia sveglio Ok Penso che sabbia Che sei lì dentro Grazie Piggy Non c'è bisogno Di preoccuparsi per lui È cieco Come può prenderti Se non può vederti Guarda Allora Ho un dubbio Allora Adesso dobbiamo trovare il cibo Va bene Signor Blu Lei è partito proprio Che voleva fare Simpaticone Ma non L'ha presa bene Nessuno L'ha presa bene Allora 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 La freccia blu È qui Mamma mia Dovete spiegare Sto tipo Donde sta Non ho chiestato la bella È sopra Questo è green Secondo me è sopra Per questo Beh ragazzi Ho trovato anche qualcosa Mi sento fantastica Ho trovato una confezione Di cibo Ma il teatro È una safe zone Cioè ragazzi Consigliatemi Ok Il teatro Tipo È una specie Di safe zone Dove I mossi Non possono entrare O possono entrarci Lo stesso Ok Allora Quindi quando sento fare Plim 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 Sta arrivando Ok Non è una safe zone Ok Mi sono auto Risposta Che Sentite Manca un pezzo Ma magari Un pezzo Sì ma la faccia Questo blu Fa un bordello Che mamma mia Spacca tutto Quando cammina Sto blu È terribile No Green Ragazzi Però Green È cieco Quindi Come fa A prendermi Con il suono Tipo Si rende conto Che io Mi sposto E quindi Mi Sto spaccando Comunque Manca Un Fa E ho provato Due cibi Eh Sono fantastica Perché ho trovato Ben due cibi Allora Green Non lo vedo In realtà Non vedo Nemmeno Blu Noi siamo partiti Da qua Quindi non credo Che questa zona In tutta sincerità Ci sia del cibo Insomma Se ci fosse Stato del cibo Lo avremmo Già Le persone L'avrebbero Strenton Mi sa che Strenton Non ha fatto Una bella Il primo amico Di blu Eh Ma mi sa che Non voglio Nemmeno Sapere Che succede Se mi Acchia Vabbè Serno organizzati Questi due Serno organizzati Ok Abbiamo vinto Vabbè Però io ho trovato Crocchette per cani Palese Ma Almeno Credo Di aver Oh È un cuore Faccio anche io Faccio così Se non mi fa capire È un cuoricino Con grino Questa è una sorpresa Arancione Orange ha lasciato La sua caverna Forse sei titolatore del cibo Noi l'abbiamo attirato A Orange Non è che abbiamo fatto Chissà che cosa Cioè Siamo rimasti in tre Siamo rimasti In tre Va bene Posso smettere di essere Una scatola Siamo rimasti in tre Siamo rimasti Con Rosetta E Sara Sera Fim Tim 14 Quindi ragazzi Aiutatemi Per favore Vabbè Però sono sopravvissuta Già a due Notti Quindi ci sta Stasera È l'ultima notte Ok Ottimo Dopo che avrai riparato La mia macchina Ti mostrerò Perché sei qui Non mi sembra una Cioè Questo è Perché le prese di aria Hanno iniziato a perdere Non lo voglio sapere Tutta sincerità Quindi adesso Devo stare Anche Attenta A Orange Fusibile Non devo andare Ok Seguo lei Perché vabbè Lei sta andando Nella zona blu Non si scappa Mi sembra giusto Gli ho messo Il fusibile Che ho trovato Quindi Ok Ora Orange Dato che trema Tutta la stanza Orange Dovrebbe No voglio dire Blu Dovrebbe No Rosetta Rosetta No Quindi devo tornare indietro Perché probabilmente Siamo rimasti in due Ma perché Ero ferma Come mi ha trovato Sono morta Sembra che qualcuno Abbia dimenticato Di dare da mangiare All'arancia Chissà Ok raga Allora spiegatemi Un po' tutta questa questione Per il momento Ci fermiamo Qui Volete altri video Volete altri video Dove proviamo A superare Anche la terza notte E quando sarà uscito A provare a giocare Anche al secondo capitolo Fatemelo un po' Sapere Lasciate un bel mi piace Se questo video vi è piaciuto Non dimenticate di darmi Tanti tanti consigli E se volete iscrivervi al canale Vi basterà cliccare Qui sul pallino Ho fatto un flip di capelli Eccezionale Se volete vedere altri video Procedi sul mio canale Vi basterà cliccare Qui sulle miniature Io vi saluto E ci vediamo domani Alle 15 Con un nuovo fantastico video Ciao Ciao